Tito sbarca pacificamente nel Ghana. Lo testimonia l'abbraccio non protocollare del presidente Negro Uncruma, che lo attende nel porto di Tema. È di scena anche la signora Tito. La visita ufficiale ha il suo percorso di prammatica, fra due ali di folla. Folla questa volta grassa e nera. Sembrano tante Peter Sisters, le donne che acclamano come se danzassero. Simpatiche grassone, queste democratiche del Ghana.